Mi fa venire naturalmente una domanda che mi pongo spesso, ed è questa fondamentalmente. Nonostante tutte le fonti di informazione che abbiamo a disposizione, sia online sia offline, in giornali, puoi dire che i giornali sono schierati, puoi dire che i telegiornali sono schierati, ma comunque c'è internet, la possibilità di accedere all'informazione c'è comunque. Eppure nonostante questo noto che in Italia c'è molta disinformazione, soprattutto tra i giovani. Secondo te che cosa è causato questo disinteresse, mancanza di curiosità, sia per quanto riguarda le vicende politiche che amministrative, insomma alla fine sono cose che comunque ci toccano da vicino, prima o poi. Da cosa pensi sia causato? Io credo che questa sia una tendenza, adesso non voglio fare il sociologo e prendere i cappelli che non sono quelli tra i tanti che uso, però mi viene da fare una riflessione più ampia e dire che questa è un po' una caratteristica o per certi versi una malattia di tutte le democrazie occidentali più evolute e non sia una caratteristica solo italiana. Quello, il funerale, che può toccare o può sembrare toccare maggiormente una fascia più giovane, ma a mio avviso è trasversale in tutte le fasce e probabilmente anche in fasce che non sospettiamo, ovvero quel fenomeno di disinteresse rispetto alla cosa pubblica o alla politica in generale. Disinteresse che ha radici anche rispetto a disincentivi che la classe dirigente ha, soprattutto in Italia, per disaffezionare l'elettore e il cittadino in generale alla cosa pubblica. Però a prescindere da questo, è vero che stanno mediamente bene dal punto di vista non solo della salute, ma anche del reddito e dello stile di vita, tendono poi a dare delle caratteristiche della società per acquisite, quindi la democrazia, la sicurezza, la salute, eccetera, come beni che stanno lì a prescindere e che non cambiano, non sono minacciati in nessun modo. Quindi questo fa sì che, è chiaro, sia un po' una tendenza, una deriva, a lasciarsi dei fatti propri e magari a decidere chi votare all'ultimo minuto o non andare a votare neanche. Tutto sommato l'Italia da questo punto di vista non è la democrazia messa a peggio, probabilmente è una di quelle messe peggio dal punto di vista di come si forma l'opinione pubblica, perché gran parte dei cittadini formano la propria opinione soltanto dalla televisione e sappiamo benissimo la televisione quanto risponda agli interessi di più parti politiche e non sia indipendente o comunque non sia un mercato pluralista dal punto di vista delle opinioni o quantomeno sono plurali, ma sono in realtà plurali, schierate, quindi in un certo senso sono comunque non obiettive, anche da punti di vista contrapposti. Quindi questo fenomeno fa sì che quelli che si informano, si informano così all'ultimo minuto e poi vanno a votare in Italia più che altrove. Quindi questo è un fenomeno un po' generalizzato. Io andando in Afghanistan mi sono preso qui di come la vita che noi diamo per normale non sia così in tutti i paesi, quindi parlo dell'Afghanistan perché ci sono stato, ma se ne potrebbe parlare rispetto a tanti altri paesi, anche a noi più vicini. Comunque il fatto che tu sei una donna, non puoi andare in giro vestita come ti pare, ma devi, anzi, magari se vai in giro con il Burka, vai in giro anche più tranquilla perché sicuramente nessuno ti rompe le scatole. Vai in giro per la strada e magari quella mattina sei sfortunato e ti esplode un'autobomba a due passi. Vai in giro per la città e la maggior parte guida senza patente e quindi diventa un pericolo anche semplicemente prendere la macchina e spostarsi in città. Hai una situazione sanitaria che fa sì che sei comunque a rischio di alcune malattie, anche se semplicemente perché non hai servizi che ti supportano. È chiaro che se tu vivi in questa situazione, è chiaro che ti interessi di più della cosa pubblica perché vedi quali sono i limiti dei servizi che ti vengono offerti, dei rischi che corri e quindi dai più valore a determinate cose rispetto a quelle che… non voglio dire che con questo dovremmo tornare a quei livelli per interessarci di più alla cosa pubblica, però magari andare un po' al di là delle solite frequentazioni, cercare un po' di guardare al di là dell'orizzonte solito può aiutarci a avere una prospettiva un po' più realistica di quello che è il mondo, di quello che è la società globale oggi e quindi porci in una prospettiva diversa rispetto anche alla nostra vita quotidiana e a come dovremmo comportarci da cittadini del mondo che vogliono essere moderni. Nel tuo… in uno dei tuoi articoli a proposito del tuo viaggio in Appianistano ho letto una frase che mi ha colpito molto e che si ricollega a quello che ti ho chiesto prima e cioè che l'attenzione passa per il coinvolgimento. Se una determinata informazione, una situazione, evento, notizia non ci tocca almeno un po' da vicino, chiaramente l'interesse è basso. immagino che possa essere… si possa fare un discorso inversamente e proporzionalmente basso, no? Sì. E quindi ti chiedo questo. Secondo te, ad esempio, in quale modo si potrebbe avvicinare la generazione della mia età, ad esempio, alla cosa pubblica in questo modo, visto che tornare a situazioni di quel tipo ovviamente non è augurabile. Certo. Secondo te è una possibile soluzione per riuscire da questo mare di disinteresse e mancanza di curiosità? Non è una domanda facile, è difficile rispondere così a bruciabello dando degli spunti concreti, però quello che mi viene da dire è che l'attenzione passa per il coinvolgimento e il coinvolgimento passa per la responsabilizzazione. per cui se, a partire dall'interno dell'università e in tutti i mondi collegati, le persone che oggi si trovano in una situazione quindi in parte di essere coccolati dalla famiglia, in parte di essere distrattati dal mondo della società in generale, che senz'altro non agevola la vita di un giovane per varie ragioni, non soltanto economico, finanziarie, ma anche di meritocrazia e rispetto ad altri problemi che abbiamo. Chi si trova in quella situazione senz'altro ha capito cosa voglio dire. Il cambiamento a mio avviso deve passare per forza da una delega, da parte di chi gestisce le leve oggi verso chi invece si trova in una situazione di subalternità e di distanza. Quindi è chiaro che se io come amore, come imprenditore socialmente responsabile, come chiunque vuole avere una posizione di non voglio dire di potere in senso generale, ma di responsabilità all'interno della società, vuole cercare di coinvolgere le persone che oggi sono meno attive e meno interessate, non può non cercare di coinvolgerle delegandogli delle attività e quindi responsabilizzandole nel farle protagoniste di un pezzetto della società in cui vivono. È chiaro che se io sono invitato a dare il mio contributo rispetto a quale partito preferisco, una volta ogni cinque anni e per il resto del tempo, tutto il coinvolgimento che ho nel rispondere a qualche sondaggio telefonico o qualche falsa forma di partecipazione, è chiaro che non ho nessun incentivo a mettermi in gioco, a interessarmi e a dare un contributo, a cercare di influenzare le cose rispetto al mio modo di vedere. Se invece rispetto alle attività che riguardano il mondo più privato, chi ha oggi la leva ne dà una piccola a queste persone per cercare di fargli capire come funziona, quale contributo possono dare, quali sono le difficoltà nel manovrare queste leve e i modi diversi in cui possono essere usate, io credo a quel punto chi è sempre stato fuori e sei disinteressato, di fronte a questa opzione ha due scenari, uno quello di continuare a disinteressarsi e a quel punto se ne assume tutta la responsabilità, nel senso delle scelte che vengono poste alle sue spalle da qualcun altro o, se credo sia la reazione preponderante, ha la possibilità di dare un contributo, capire meglio come funzionano certi meccanismi e quindi avere anche delle reazioni più verosimili rispetto al modo in cui funziona la politica, l'amministrazione e quindi avere delle aspettative che corrispondono di più al mondo reale e dall'altro può cominciare a entrare nel meccanismo e senz'altro entrando nel meccanismo ha più interesse a informarsi, a cercare di influenzarlo e cambiarlo partendo dal basso, non so se quella risposta però è senz'altro un modo per cominciare a fare qualcosa. Direi che a questo punto si può completare il percorso di prima, cioè l'attenzione passa per il coinvolgimento, che passa per la responsabilizzazione, che passa per la partecipazione, infatti. Sì.